Perchè vai in la legge da vart la reforma della taglia sin interprisasi 3? I dati interprisasi che hanno un sede in Svizzera, che hanno tanto attivas principalmente all'exteriore. Queste interprisasi vengono dischargiate fiscalmente in Svizzera. Ellas pagano da mai più poche tagliate che altre interprisasi. Queste discharges fiscali non corrispondono in tanto più più al standard internazionali. Il Parlamento ha per quai adattato l'imposizione di tagliate in interprisasi. Contro questa legge vengono lanciare il referendum, per quai votare in uso da vart questa domanda. Cesa mi dà. Se il progetto di votazione vengono accettati, vengono abolite le discharges fiscali del Finos. Scop contra la misura vengono introduziti nuovi discharges fiscali. Da queste discharges fiscali possono dann profittare tutte le interprisasi in Svizzera. Le singole misure si attestano in easyvote.ch.usr3. Per quai sostegna la confederazione di scop contra le discharges fiscali, la confederazione stimma che la Aia Uschia coste suplementari anuali davano 1,1 miliarda francs. Ulteriori costi per la confederazione di scop contra le dischianti sono difficili da stimare. C'è n'ins e n'is argomenti dals adherents. Las discharges fiscali del Finossa ston venir abolides. Sìns n'introduzesse becci noves, emigresci le interprisasi in pagare le discharges fiscali più favori e non pagano insomma nelle tasse più in Svizzera. Tutte le interprisasi profiteggono. Bleras pagano da mai in tagli e possono segurare le placi di lavoro existenti. I c'è n'ins e 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 n'ins. E n'ins e n'ins e n'ins e n'ins e n'ins e n'ins. N'ins e n'ins e n'ins e n'ins e n'ins e n'ins ogn'ins da loro Вас Sternius. Ma i98 experts sapesshan perchè chi va a propi. Dalla Reforma profiteggene suche veramente più ogn Herz brothers. L'arte è molto bassa tra le dischianti. Perché la confederazione di scop contra le dischianti ha benessi daety. 2,7 miliardes francs da main entradas. Già a ciascun da l'ultima reforma della taglia sin interpresas è la popolazione venida engianata. I costi erano bler più alti che quai che la confederazione aveva indiciali in prim. Volsti che la reforma della taglia sin interpresas 3 venia accettata, l'ora votessa Gia. Volsti che la venia refusata, l'ora votessa Gia.